Ecco qua, una stanza tutta per te, come hai sempre desiderato, l'ho preparata mentre eri al campeggio? È molto, molto carina. Non le piace, non le piace, cosa c'è che non va? Ascolta la tua coscienza. La stanza è carina, ma tua figlia ha un gusto diverso dal tuo. Certo che manca qualche ritocco, ma aspettavo te per le rifiniture. Vuoi dire che si può fare qualche modifica? Certo, questo quadro per esempio, ci vuole del colore. Un momento. Ecco qua, blu e arancio. Via questo. Via. Una puntina, un'altra. Ecco, fatto. Ottima idea di fulare. Ti piace? Formidabile. Che mamma moderna che ho. Va a vedere cosa ha combinato tua figlia, va. Cosa abbiamo combinato, vorrei dire. Ecco il caffè. Il mio caffè non gli piace, eppure faccio di tutto. Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza. Certo, hai fatto del tuo meglio, ma ora prova caffè Splendid. Caffè Splendid ha il gusto quota mille e il caffè più gustoso nasce nelle piantagioni brasiliane sopra i mille metri. Ecco il caffè. Sì, questo è un caffè. Ora il tuo caffè gli piace? Caffè Splendid. Gusto quota mille. Ecco il caffè. Il mio caffè non gli piace, eppure faccio di tutto. Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza. Certo, hai fatto del tuo meglio, ma ora prova caffè Splendid. Caffè Splendid ha il gusto quota mille, e il caffè più gustoso nasce nelle piantagioni brasiliane sopra i mille metri. Ecco il caffè. Sì, questo è un caffè. Ora il tuo caffè gli piace. Caffè Splendid. Gusto quota mille.